Purtroppo mi sa che c'è solamente in inglese per la demo Mi sto alzando sarebbe Jane sei tu? Dove diavolo sono? Vedevo che Jane fosse qui ma Non fa nulla devo tornare a casa Ok quindi ha sentito la voce di Jane ma Jane non c'è Perché è tutto buio e non vedo una fava da quella parte Vabbè credo che questo sia semplicemente il tutorial per vedere il movimento Posso accendere la luce? No Cosa sono tutte queste cose? Cioè ci hanno messo i mobili davanti alla porta Posso prendere la torcia? Una torcia Fico Fico Ok con F la accendiamo La grafica è carina eh non mi dispiace Ah è di ambientazione asiatica vedo Eh comunque sono tutte foto I ragazzi asiatici Cosa è stato quel rumore? Dove sono? Come posso uscire da qui? Come posso andarmene da qui? Guardate com'è realistica la grafica Sono persino gli elefantini Quelli ce li aveva anche mia nonna Che cavolo è? Potrò venire da qui? Oh Chi è spento la luce? Posso accenderla? Bene Ci hanno chiuso la porta dietro Fantastico È più di dieci anni fa Allora Una studentessa universitaria misteriosamente scomparsa Ah Bangkok Tra l'altro qui c'è una chiave Devo usare la chiave immagino Vai Fa freddo qui Creepy Oddio non mi viene mai la parola italiana per creepy Da brividi Che stai urlando? Dice Hey puoi sentirmi? Inquietante Esatto Inquietante è la parola giusta per creepy Bravo Io dico sempre creepy Lo dico sempre in inglese Ah Dobbiamo inseguirla? Sei serio? No ragazzi No C'è la luce rossa Perché vuoi correre? Porca Oh Tutte le volte mi fregano con le cose che cadono dall'alto Dio santissimo È andata lì? Oddio No 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 È bruttissima raga Io non la voglio Ma perché? Perché sta gente dei giochi horror È sempre stupida Perché stiamo inseguendo una tizia Probabilmente morta? Punta davanti alla faccia Muoio Dannazione Dov'è andata? Bene È tipo spiaccicata su Sul muro Ma prima non c'era quella traccia di sangue Ok Finita di colpo la musica tragica Tra l'altro la tizia è a piedi nudi Cosa è successo qui? Dov'è l'uscita? Vi ricordo che questa è una demo Quindi vediamo solo com'è il gioco Facciamo un attimo un'idea Ehi posso chiederti una cosa? Eh Che cosa dici? Ce ne andiamo? Corri? Dove? Oddio Chiudi Chiudi la porta Chiudi la porta Chiudi la porta Vai dentro Vai dentro No a me ste cose con gli armadietti Che devi correre e nasconderti subito Stile alien Stile Abduction E abduction Wow Avete visto? Ha fatto tipo una macchia di sangue sul muro Ed è passata nel muro Dov'è passata anch'io nel sangue? No Io mi spiaccico contro il muro Molto bene Eh Dannazione Dove diavolo sono? Guarda che c'è il sangue lì Vuol dire che la tizia può arrivare da un momento all'altro Questa passa attraverso i muri Eh Dov'è l'uscita? Dovrebbe saperlo eh Ma che ci stiamo andando A incasinare sempre di più Tappi che cadono Grazie topo Pagherai Non posso aprirlo È incatenato Ci serve qualcosa? Eh Devo trovare qualcosa per tagliarle Sì Ci servono delle cesoie Cesoie È una catena L'ho visto sinceramente Lucchetti Cos'è sta roba? C'è zoie Ta da No 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 Che è? Arriva la tizia Arriva la tizia Sbrigati 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 Usa Vedi in pratica bisogna fare le cose C'hai l'ansia Perché quella ti compare All'improvviso Oddio santo Sta lanciando cose È dietro di me Di sicuro Oh no 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 Apri Apri Dove Dove puoi aprire? Possiamo nascondere da qualche parte? No eh Cos'è? Devo fare una cam quella A me non è che mi sembra proprio un buon momento per mettersi a esplorare la casa Visto è considerato che quella può arrivare da un momento all'altro eh Probabilmente lei è dall'altra parte Io corro C'è stato questo suono Cos'era la stanza di lei questa? Che ci sono le camicie Oddio se non la stanza vedo ragazze in realtà eh Mi hanno chiuso nel bagno Non invito a lavarmi o posso uscire? Bene La tizia è appena andata a destra E io devo uscire da qui Dobbiamo trovare qualcosa per togliere il legno Guarda che sicuro devo andare in quella stanza lì Cosa è andata la tizia? No aspetta Penso che devo andare di qua invece eh Che va? Cos'è sta roba? Una bambola piena di chiodi Ah guarda un piede di porco Tutto quello che cisse E quindi Il fantasma ha appena dato di stomaco E' un po' troppo silenzio per i miei gusti Certo che andarsi a infilare in un cunicolo Mamma mia, penso che se ero io mi buttavo dalla finestra Perché forse siamo in una specie di cantina in realtà Quindi non puoi granché buttarti dalla finestra Ma sono i topi Cos'è stato questo suono? Dio santo, io odio le bambole Oddio c'è la ragazza Piange Ma secondo me ci vede con la torcia Perché piange? Secondo me quella povera ragazza l'avevano chiusa qui E' tipo un fantasma sofferente Che dobbiamo liberare I soldatini No ragazzi Mi sa che l'avevano chiusa qua dentro Guardate Cos'è quella roba incenso? Forse l'hanno rapita e l'hanno chiusa qui Eccole Adesso è scomparsa Non c'è neanche più Un'altra strana bambola Oddio E io perché faccio sti giochi? Armadio Armadietto Sbrigati Che sangue d'apertura? Tutto Cos'è quella luce verde? Mi piacciono le luci verdi? Vai Teniamo sott'occhio Adesso Sì Vabbè No il tizio tranquillissimo Ma sì Posso farlo funzionare Se riesco a farlo funzionare Posso andarmene via da qui Ma sì certo Ho visto qualcosa lì? No Sono sognata di vedere la tipa No 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 Corri Corri Apri Merda No Vai dentro Sì ma cacchio Quella esce da tutti i muri Sì ma il tizio infatti è troppo calmo Cioè Io giuro Cioè io me la sto facendo sotto Lui tranquillissimo Oddio Torna indietro Ma la zona è chiusa È scomparsa Io esco Aperto la porta No raga Ma mi sta sul Ma è bruttissimo Fare bubussette Te da qui Qua non c'è Qua non c'è Madonna santa No è bruttissimo È bruttissimo Sta cosa Che si può guardare Lì dietro Non ti muovere No ragazzi Io non ce la faccio Cioè Mamma che l'ansia E vai Questo è il momento Ah sono riuscita ad uscire Ok Dobbiamo fare qualcosa Uh Vai L'ho preso Ha preso il fuse Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro Prova ad uscire Padova L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Vai dentro Sta zozza Ma mi ha accoltellato Sta zozza Sta zozza Dio santo Brutta zozza Schifosa Veniti Ragio di merda Eh Canga 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 Dove va? A giro Dall'altra parte Vero Sì Ok Ma è la nostra occasione Per uscire Velocemente Da qui Però Devo accendere la torcia Perché non vedo Veramente una fava Dai che ci siamo Ok Sì Sì Sistema Sto fuso Benedetto Ok Emo via Pareva si doveva rompere il fuso Io mi filo sotto Ancora quella musica Cos'è questa casa Con i cerini Chi è? Eh Fuck Dove? Dove? Non ci sono muri Dai 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 Ok Vai Corri Corri C'è questa che mi lancia le cose Mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto Mi ha vistissimo Il sangue mi rallenta Eh Lasciami solo Dice lui E adesso? Quanto è bello Quando urla e fa No No ragazzi Sì Vabbè Ma Non potevo muovermi Penso che la demo Finisce così